Momenti comici e drammatici si alterano nella commedia grottesca Il Giudice, in scena in replica al Cineteatro Astra di Sassari, domani alle 21 e domenica alle 19, con la quale prosegue la stagione di Primavera Teatro, organizzata dalla compagnia Teatro Sassari. E' lo stesso regista Mario Lubino ad interpretare il protagonista Antonio Usai, che assiste ad un omicidio e ne diviene il principale accusato pur dichiarandosi innocente. Lo incrimina un giovane giudice, interpretato da Alberto Lubino, che, quando un altro uomo si accusa del delitto, dato che in mass media danno per scontato che il colpevole sia già stato arrestato, teme che ammettere l'errore giudiziario possa nuocere la sua carriera e prova a convincere l'indagato a dichiararsi colpevole, promettendo a lui e alla moglie Alessandra Spiga, un ottimo impiego e una casa incomodato d'uso. La propensione della donna cedere all'offerta scatela lira del marito, che tenta di ucciderla. La commedia in due atti si basa sul paradosso drammaturgico dell'eterna contrapposizione tra la spietata oggettività della legge e le debolezze umane dell'amministrazione della giustizia. Gli altri protagonisti sono Michelangelo Ghisu, nei panni della gente, Pasquale Poddiche, che interpreta Francesco Sanna, e Paolo Colorito, nel ruolo di Santoni. La scenografia è di Gino Panzino, le luci di Toni Grandi e l'allestimento scenico è curato da Tommaso Tanda.